Buongiorno Chi ho trovato Cosa ho trovato E lasciamo perde Non andiamo oltre Mi raccomando ragazzi Io vi invito a lasciare subito un bel like Raggiungiamo almeno i 10.000 mi piace per questo video Ovviamente ragazzi Se vi perdete queste live Io vi ricordo che sono sempre in live Dalle 21 in poi Ogni sera sul mio canale YouTube Quindi mi raccomando Seguimi tutte le sere in live Che porto sia FIFA Che fortemente un po' di cose insieme Godetevi questo video Date un'occhiata a chi ho trovato In questi 4 pacchetti Icona media ragazzi Non 1 4 Vi lascio con il video Buona visione Nesco E' andato E' andato E' andato Italiano Difensore Ti prego Maldini Maldini Mi da garrincia ragazzi E me non lo posso ripendere Quindi sarei veramente contentissimo Dammi Pelè Dammi il fenomeno Dammi Gullit Dammi Garrincia Eeeh Kakà Socrates Dammi Zambrota E mi vedo Zidane Non mi dare inglese Qua ti prego Non me lo dare inglese Non me lo dare Ti prego Tutto tranne inglese Io spezzare Me lo voglio spezzare Me lo voglio spezzare Nooo Aspetta però Nooo Non c'ho parole Regà Non c'ho io crede Signori Ci siamo fatti un altro pacchetto Icona Medio garantito Ho paura Amore Questa è una grande responsabilità Dai Dacci qualche cosa No Dai Tutto inglese L'ho trovati Così cos'hai trovati Qui posso trovare Le peggio cose Ma dallo sta merda Passa sti inglesi Allora In questo pacchetto Dobbiamo scurare Regà Perché mi ha dato Tre Allora Tre pacchetti Icona che abbiamo fatto Tre inglesi Mi ha dato C'è in tre pacchetti Icona tre inglesi Regà È una cosa incredibile Sicuramente questo sarà Un messaggio subliminale Si illumina Oh Vuoi facer Sleague walk out Oh Black 91 3 2 1 Un lato Oh no Non la faccio No 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 Brasiliano Cio cio Non mi dichiarò Nel digno Lo devo scartare No 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 Perché già ce l'ho Lo posso mettere solo dentro An SBC Lo posso mettere Dunce voglio che Già ce l'ho Ma me l'ha dato Cioè Prima buttarono Al digno Qui dentro Ma che dolore C'è un digno Eh sì Sì Purtroppo sì C'è un digno Ragazzi come ben avete visto Abbiamo trovato Ste fottute icone inglesi Ragazzi Ma non perché niente Però due volte more Cioè raga Madonna mia Io mi aspetto di trovare Ovviamente Un Pelé Un Pelé Un Ronaldo Il Fenomeno Un Gullit Zidane Ce ne stanno tantissimi A cui posso sperare E poi Chiedo il brasiliano E chi merita Ronaldinho Che ho dovuto scartare Dentro un SBC La cosa più brutta È proprio un colpo al cuore Ragazzi Fatemi sapere voi Qua sotto nei commenti Se avete fatto qualche pacchetto Icona garantita Fatemi sapere ragazzi Fatemi sapere voi Chi avete trovato E ovviamente Lasciate sempre Un bel pollice in su Io Ragazzi Il video è terminato Spero vi sia piaciuto Mi raccomando Iscrivete al canale Attivate la campanella Vi aspetto Il live tutte le sere G2A Link in descrizione Footloot Link in descrizione Io vi invito a cliccare Qua faccia a me ragazzi Per vedere altri due video Se tanti volte ancora avete visti Cliccate Riconosciate Capare Schiai canale Cliccate la campanella Non perdere nessun video Noi ci vediamo Con un prossimo parlamento Qui da Giocorini è tutto Bella ragazzi